Oggi è la giornata internazionale della sicurezza sul lavoro. In Italia gli incidenti non si arrestano, più di tre al giorno quelli con esito mortale e i familiari delle vittime devono lottare per ottenere giustizia. Antonello Profita. Per la democrazia, per la libertà, solenni lapidi sul municipio di Monte Belluna ricordano i caduti dal 1848 al 1945, ma non tutti i conflitti sono evidentemente finiti. C'è una guerra aperta con una lista di caduti che continua ad allungarsi. 451 morti dal primo gennaio a oggi e la panchina bianca di fronte all'edificio comunale è dedicata a chi ha perso la vita sul lavoro, in memoria del giovane Mattia Battistetti ucciso nel cantiere edile dal carico sganciatosi dalla gru. Domani saranno tre anni da quella tragedia. È sempre un ricordo, un ricordo di quella mattina che come tutte le altre mattine era uscito di casa molto presto per andare al lavoro, lui lavorava 14-15 ore al giorno montava ponteggi e poi alle otto e mezza la maledetta telefonata di correre in cantiere perché era successo qualcosa. In quel momento abbiamo saputo che Mattia era morto. Ferita che si riapre a ogni udienza, il processo riprenderà a gennaio, voi i familiari sempre presenti in aula. Abbiamo giurato a Mattia che vogliamo giustizia. Cosa vi aspettate appunto? Che gli imputati vengano puniti. Non ci interessa il risarcimento ma vengono puniti e questo lo chiedo allo Stato, lo chiedo alle istituzioni, devono fare qualcosa, devono introdurre delle pene più severe.